Buonasera agli amici di Bicisport. C'era molta attesa per l'inizio di questa edizione del Tour de France, partito oggi appunto da Copenhagen con un acronometro di poco superiore ai 13 km. L'attesa per quanto riguarda i colori azzurri era naturalmente per il campione del mondo, Filippo Ganna, e nella concrete e legittime speranze che potesse conquistare il successo e quindi indossare anche la maglia gialla. È stata un acronometro dove i migliori sono stati molto vicini, come era prevedibile. Filippo Ganna non è riuscito a fare la differenza, in tantissime occasioni è riuscito a mettere la propria ruota davanti a quella di Wout van Aert. Oggi è accaduto il contrario, perché il campione fuoriclasse Wout van Aert è riuscito a fare meglio di Filippo Ganna, ma a sua volta ha trovato chi lo ha battuto, ovvero Yves Lampard. Yves Lampard che ha sfruttato le condizioni meteorologiche migliori rispetto agli avversari, quindi partito con la strada asciutta è riuscito a tirare fuori una prestazione veramente straordinaria. Lui che ha delle buone doti nelle prove contro il tempo, difficile immaginare che avesse potuto battere, come è riuscito a fare van Aert e Ganna, se avesse corso nelle stesse condizioni del connazionale e del campione del mondo, ma così è stato. Le corse sono queste e bisogna accettare naturalmente il verdetto. Per la classifica generale ha dato un gran segnale, manco farlo apposta, Tadej Pogacar. Terzo sul traguardo alle spalle di van Aert e appena davanti al nostro Filippo Ganna. Ha fatto capire fin da subito che la sua condizione è un'ottima condizione, come già aveva palesato al Giro di Slovenia. Un Tadej Pogacar che va a confermare con questa ottima prova contro il tempo il suo ruolo di favorito principale. Molto vicini comunque i suoi avversari, ma colui che ha messo la ruota davanti a tutti per quanto riguarda gli uomini di classifica è proprio il fuoriclasse sloveno, il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France. Un Tour che domani proporrà una frazione adatta ai velocisti per quanto riguarda l'aspetto altimetrico, ma attenzione perché le condizioni meteorologiche e il vento potrebbero condizionare la tappa di domani dove gli uomini di classifica dovranno tenere gli occhi ben aperti. Arrivederci e buon fine settimana a tutti.